Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Shane Underferro e questo è un Shiny Watchug, ragazzi, no shit. E ora andiamo a catturarlo. Ragazzi, stavo facciando anche su questi system, non posso parlare dall'altavoce perché rischio di svegliare gente, è pericoloso insomma, come al fotto solito. Ragazzi salutiamo Scraggy, è pericoloso, è pericoloso, è pericoloso. Vai, questo è il gioco... beh, che me ne fotte Master Ball, sì, tanto vai, il gioco tipo gioco, gioco di merda, vai. Vai, catturato. Sopriamo. Sopriamo. Sopriamo che abbia risplendi, insomma. Decisa? No, sguardo fermo. Che palle. ragazzi fase 4 non esce un cazzo doppia incontro naturalmente finisce quel video ragazzi non ho fatto un cazzo non ce ne faccio ragazzi tutti i prossimi video anzi mostro il ultimo water clock anzi mostro questo è il roccio di Londra ragazzi per l'ultima volta lo mostro basta ce lo faccio tutti grazie a tutti grazie a tutti